Come scrivere su SketchUp è molto semplice, può servire scrivere qualcosa e poi stamparle a lettere separatamente, c'è una casella per esempio con su scritto A, quando si apre puoi inserire ovviamente il testo, inserisci il testo, comunque si può scrivere tutto quello che vuoi, puoi scegliere il font, mi ricorda un po' quando ero costretto a usare l'illustrator che lavoravo come grafico e questo programma me lo ricorda molto perché scelgo il font, scelgo l'altezza, scelgo anche lo spessore per esempio, in questo caso è un millimetro, l'altezza invece è l'altezza, per esempio tutta l'altezza, cioè la I è 7 mm, come avete visto c'è il font, qua c'è anche bold o italic, poi mi chiede se è estruso o no perché in caso comunque non è spesso e posiziono, clicco su posiziona, si è creata la mia scritta in 3D, cioè questa se la esporto alla stampo è stampabile, poi con MeshMixer per esempio divido tutte le parti, le esporto una a una, tutte le lettere e le stampo un po' grosse sulle stampanti 3D o altrimenti posso inserirla sopra un gadget come spiegavo l'altra volta, le cose che scrivete tramite questo comando vedete che non sono selezionabili, ma sono bloccate, sono tipo raggruppate, se volete togliere il gruppo dovete cliccare su esplodi, in questo modo vedete ora ci sono veramente tutti i punti e le linee, queste qua sono le famose linee, punti e tracciati e riempimenti di cui parlavo nei vecchi corsi e posso anche modificare magari i font e dire non so qua in alto voglio che tanti grafici per me dovranno sbizzarrirsi e specializzarsi nella creazione di loghi proprio per la stampa 3D perché è una cosa fondamentale, qua di mezzo c'è anche una cosa che fa sempre parte della grafica pubblicitaria che è la scelta del font, quella che abbiamo fatto adesso, è una cosa che compete, quindi per me i grafici possono essere degli ottimi disegnatori per 3D per le aziende, per quanto riguarda il marketing dell'azienda, cioè realizzi la tua immagine coordinata in 3D, cioè col 3D tu puoi creare magari il tuo logo, metterlo nelle fiere e devi avere una persona che ti fa il logo così tu stampi, risparmi ovviamente sul costo della progettazione e hai i tuoi pezzi. Spero che questo video ti sia stato utile, metti un bel like se ti è piaciuto, alla prossima!